Solo in quei momenti, mentre seguo con le dita a linee di Efelidi dalla guancia alla clavicola o mentre osservo il bagliore delle stelle che danza sulla pelle, mi sorprendo di come una tale intimità possa accompagnarsi a una così grande lontananza. Penn! Lo stavi leggendo? No, non intendevo farlo. Non intendevi prendere il mio diario e leggerlo? No, l'ho fatto, ma non avrei dovuto. No, infatti. Quello che hai letto non è scritto per occhi estranei. Caspita! La tua mano, Colin! Non è niente. Non è niente, resta lì. Per favore, lasciami fare. Tu scrivi davvero bene. Meglio fermarti qui per oggi. Non è niente, resta lì.